E' un processo già avviato, come al solito la Lombardia anticipa i tempi, li anticipa anche grazie alla grande capacità di visione e di ingegno dei nostri imprenditori per cui tutti i processi di sostenibilità, di economia circolare, sono in fase di avanzamento da tempo e abbiamo anche delle leadership incredibili e degli esempi molto virtuosi e molto positivi su tante filiere produttive. Noi li accompagniamo sostenendole attraverso gli strumenti dell'assessorato all'ambiente e anche gli strumenti dell'assessorato allo sviluppo economico. Il tema fondamentale per noi è la libertà d'azione, cioè raggiungere quegli obiettivi attraverso la piena neutralità tecnologica, perché questo ci consente di utilizzare il know-how di cui disponiamo, per cui la ricerca, le università, l'innovazione, le imprese stesse, tutta la qualità anche dei lavoratori delle nostre aziende e delle nostre imprese che ci permettono di anticiparli quegli obiettivi, di raggiungerli prima. Se non ci venisse lasciata la piena neutralità tecnologica saremmo omologati agli altri in piena difficoltà e soprattutto non riusciremo a sviluppare nuove idee, nuove capacità, nuovo know-how e anche nuove occasioni occupazionali.